Salve a tutti ragazzi, sono Marlo Minetta al libro di Marco Pellegrino e vi leggo un passo del penultimo libro di Marco Pellegrino in cui parla col grande studioso, secondo me geniale, di filosofia, Paolo Dova. Marco Pellegrino dice Ciò che indico non è astratto, è il concretissimo. È il modo in cui lo dico ad essere parzialmente astratto. Appare ovunque in concreto che tutto ciò che è non è il nulla, ossia eterno, e che lo è in modo finito diacronico. Appare ovunque in concreto che tutto ciò è l'identità che unisce ogni propria differenziazione, che dalla prima volta conduce al ritorno. Il ritorno, in quanto unito alla prima volta, è il concretissimo, non è astratto. È qui con noi, sempre, nei modi opportuni. Ancora una volta, non si deve far ingannare dal modo in cui dico le cose e in cui, ad esempio, indico il ritorno. Il modo inganna sempre e, pertanto, bisogna avvolgere lo sguardo verso ciò di cui esso è modo. Ci si renderà conto, così osservando, che il ritorno è questa stessa vita che stiamo vivendo, ma che, in quanto imprigionata nei limiti ancora ristretti dell'accorgersi, è nella prima volta. Il significato in cui il ritorno consiste appare sempre, ovunque, che poi, ancora, non si riesca e non si possa scandagliare l'abisso a cui tale significato conduce da ultimo. Ciò non vuol dire che il tutto, come distinto dalle proprie parti, il ritorno, non sia in luce. Bensì, vuol dire che il ritorno, accerchiando in sé, come verticalità relativa, la propria prima volta, è ancora talmente immerso nel grande oceano di se stesso, nel proprio essere la stessa prima volta, che non può prevalere come tale, ma, appunto, come prima volta di se stesso. Ma esso è questo che appare. La coscienza è questo che sempre appare. Medesimamente, poiché la coscienza è tutto ciò che è necessità, che appaia, sopraggiungendo e compiendosi, da ultimo, non è nulla di misterioso ed enigmatico, nel senso che ogni mistero intorno a ciò che in qualche modo non appare è comunque svelato negli altri modi opportuni. Quando ci si rende conto, soprattutto con l'ultimo evento del ritorno, che non c'è niente che non... che non si possa esperire e che tutto ciò che non viene esperito è relativo ad un certo tempo, già che negli altri tempi viene colmato il vuoto relativo appunto a ciò che non viene esperito in quel tempo, e viceversa, ci si rende perciò stesso conto dell'effettiva struttura eterna della coscienza in tutte le sue specificazioni o temporalizzazioni. Essa è il cerchio infinito, trasparente a se stesso, come uno specchio che illumina se stesso in varie prospettive colorate. Nella prima volta, la totalità concreta delle prospettive non brillano in una luce, brillando soltanto alcune di esse, ma quelle, poche, che già brillano, consistono nella struttura della coscienza, non sono alterate, ci si illude che lo siano. Per ritorno ci si accorge, appunto, che già nella prima volta, osservando quelle poche prospettive, si osserva quella totalità concreta. Quindi, brillando, nel ritorno, tutte le altre prospettive, e queste insieme a quelle, non si viene a conoscenza di qualcosa di essenzialmente nuovo, ma ci si sorprende, per la meraviglia che già nella prima volta appare. Non si tratta di vivere vite diverse e più serene e gioiose, ma di rivivere le stesse vite, di amarle sempre di più, cioè conoscerle fino in fondo, un fondo che, rimanendo ancora per lo più celato, ci si illude che non appaia proprio in ciò che è la vicinanza estrema del nostro sguardo e di tutto ciò che in tale sguardo appare. dunque, nel ritorno, tutti noi, in quanto siamo in verità la coscienza stessa, rivivremo concretamente con emozioni, dolori, pensieri, esperienze, eccetera, tutte le vite della prima volta, ma appunto accorgendosi di essere l'unica coscienza veramente vivente e che quindi vive e rivive se stessa in tutte quelle vite. Quando, poniamo, la coscienza rivive la vita di Marco, non la rivive nello stesso modo in cui l'ha già vissuta nella prima volta e che è quella che io ora sto vivendo, altrimenti, anche nel ritorno, prevarrebbe l'illusione da parte della coscienza stessa di non essere la coscienza ma soltanto quella propria individuazione in cui consiste la vita di Marco. La vita di Marco, cioè, non essendo soltanto un'individuazione ma primariamente la coscienza stessa che in tal modo è anche individualizzantesi quando viene rivissuta nel ritorno viene rivissuta propriamente dal punto di vista della coscienza che si accorge di tutte le vite, di essere tutte le vite. Pertanto, rivivendola, la coscienza decifra tutti i segni che con quella vita appaiono, la differenza tra i segni e la vita in questione essendo relativa alla loro stessa uguaglianza di fondo e decifrandoli riesce a scorgere il volto di tutto ciò che, rispetto a quella vita rivissuta, è un passato e un futuro. Io, ora, so qui seduto a scrivere e mi trovo nella prima volta. Nel ritorno, quando affiora questo istante, io stesso che ormai sono l'accorgimento di essere la coscienza, che è lo stesso accorgimento in cui consisti tu nel ritorno, non sono due, non sono molteplici gli accorgimenti, è uno, poiché l'accorgersi di essere la coscienza infinita. Decifro esaustivamente tutto ciò che appare in me e poiché ormai prevale tutto, decifro tutto nel modo congruente a quell'istante. Quindi, so dove si trova Paolo Dova in quel preciso istante, so che cosa sta facendo, cosa sta provando, eccetera. So, sempre in quell'istante, cosa accade a Madrid, sulla luna, nel mondo vegetale, eccetera. So tutto nel modo opportuno, quando poi, supponendo che la vita di Paolo sia un futuro rispetto alla mia, io coscienza raggiungo la vita di Paolo, rivivendola, rivivo il modo specifico in cui tale vita vive se stessa in se stessa come vita prevalente e diversa dalle altre, ma la conoscevo già, perché sin dal primo passo del ritorno essa mi appariva prevalendo nella luce, nonostante non prevalesse come quel modo specifico che ora sto rivivendo e sapendo, sin da quel primo passo, doverla rivivere, perché non solo mi appariva il prevalente della prima volta come un passato rimembrato e quindi quella stessa vita del passato, ma mi apparivano, prevalendo come un futuro annunciato, anche tutti tutti i successivi passi del ritorno e quindi quella stessa vita del futuro. allora io qui 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 Grazie.